Tu, con me. Cosa sono queste? Poi passare al libro. Giorgio, mi hanno preso le impronte. Ah, vedi? No, a me le avevano già prese l'altra volta, quindi... Giorgio, a me. Io tra sei mesi ho il concorso per la cattedra, non lo posso fare sui precedenti penali. Ah, quindi la serata è finita abbastanza male, capisco. Ok, ti chiedo scusa, sono qui per sincerarmi delle tue condizioni. Come stai? Abbastanza male. Giorgio, ci hanno arrestati. No, giusto. Malissimo. Una vera tragedia. Però quello che c'è stato tra di noi, quello non si può cancellare. Cosa? Come cosa? La nostra sintonia, quell'elettricità che si era creata. Io che ti dico delle frasi di senso compiuto, eh? Giorgio, tu vivi in un mondo tutto tuo. E non ti piace? No, perché si viene arrestati. Tu vivi in un mondo tutto tuo, ma il mondo non è solo tuo, è anche degli altri. Non lo puoi costruire come una macchina. Allora magari dovrei. Cosa? Costruire un mondo tutto mio. Giorgio, la mia è una metafora. Tu ci verresti. Non puoi costruire un mondo. Magari sì. No, invece. Al contrario di quello che pensi, non sei un genio. Tu costruisci i giocattoli per i quali finisci in galera. E sai perché ti arrestano? Perché hanno ragione. Devo andare.